Quanto sei stanco oggi? Oggi abbastanza, devo dire che... È tutta colpa di quel signore lì? Nunzio, papale, tutta tua la colpa di oggi. Quindi come sta andando il lavoro qui? C'è anche Tommaso Berni che è la new entry nel vostro gruppo. No, diciamo che il lavoro è sempre quello che facciamo di solito. Noi lavoriamo tanto sulla forza, sulle possibilità. Quindi oggi è stato l'ultimo lavoro di forza pesante e speriamo adesso di iniziare a alleggerire un po' perché bisogna stare più veloce, più plosivo nell'importa. Il ritiro è in discesa, non dico che potete rilassarvi però quasi, il carico pesante è stato fatto. Il peggio è stato fatto, quindi siamo contenti perché ci siamo riusciti in un altro ritiro ancora, abbiamo finito bene. e speriamo di questa attenzione farla il meglio possibile. Come hai trovato il gruppo? Tanti giovani? Tu sei uno di quelli anche, è vero, non anziano, tra virgolette, perché sei ancora giovane, però quello che ha è esperienza, no? Sì, sono diventato uno dei più grandi, questo non è un buon senso. Però hai responsabilità, Pablo. No, però devo dire che ragazzi, se sono tanti giovani, quindi si fa divertente nel pochettatoio, ascoltano tanto al mister, penso che la cosa giusta è andare tutti sulla stessa strada. Noi più grandi cercare di indirizzare, magari qualcuno è un po' storto, però devo dire che fino adesso il rapporto è ottimo e speriamo di continuare così. Una delle parole più usate in questo ritiro, soprattutto dal mister, è stata la grinta. Lui ha detto, io voglio vedere una squadra, anche durante la stagione, che non molla mai su ogni pallone, che arriva sempre prima, con tanta fame. Insomma, l'avete percepito da subito anche voi, perché anche negli allenamenti veramente non si molla nulla. Sì, lo sapevamo. L'anno scorso, quando perdevamo partito, pareggiavamo, mancava questo carattere, la grinta. La garra, come dite voi. La garra in argentino, bravo, bravo. Penso che quest'anno, se lavoriamo proprio su quello là, faremo dei grandi risultati, non ho dubbio. Ti sei ripreso dalla delusione mondiale? Perché io ti ho lasciato un po' perdere il giorno dopo, perché eri un po' provato. Per i ragazzi, per Rodrigo, che ha avuto anche con lui un'occasione chiara di disegnare, che per lui sarebbe stata la cosa più importante della sua vita. le dispiace come argentino, però la Germania anche penso che in 90 minuti loro hanno fatto una grande gara e noi solo pensavamo al contropiede o magari alla magia dei mesi. Non ci siamo riusciti questa volta. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli. Sky, liberi di... Grazie a tutti.